Siamo stati bene, nel senso che nonostante tutto è stato un posto accogliente in cui mia madre è stata passata serenamente gli ultimi giorni, ha trascorso serenamente per quanto possibile l'ultima, non ricordo neanche, mi sembra dei giorni, mi sembra qualcosa del genere. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!